Adesso andiamo a vedere invece il mezzo rom sulla porzione alta, quindi da terra fino a su. Anche qui non lanciate perché sennò la prima cosa che si alza è appunto sono i trapezzi e c'è un'elevazione appunto del travezzo e delle spalle. Mentre dobbiamo sempre aprire, cioè il concetto come vedete è sempre questo. Immaginate sempre un orologio, mezzogiorno alle 11.05, 10.10, è proprio semplice. Da qui apriamo. E controllate, non rimbalzate. Qui il lavoro è tra le 6 e le 8 reps, appunto se giocate bene sui cari capite che quando arrivate a fare queste accederete intorno a quel numero di ripetizioni. Buongiorno ragazzi, benvenuti nel modulo 3 del videocorso Renonation sul Power Body Building. Qui andremo ad affrontare tutto ciò che riguarda la fase di volumizzazione e carico. Andate appunto ad affrontare gli argomenti e la programmazione su carico, accumulo, buffer e conseguente cedimento. Ovviamente dando focus alla fase di volumizzazione e carico, utilizzando grandi carichi, diciamo medio pesanti, quindi diciamo un 6RM, ci sarà giustamente un accumulo di lavoro costante e continuo nel corso delle settimane delle serie. Questo inizialmente porterà ad un volume a buffer con conseguente accumulo e cedimento. Questo creerà appunto i presupposti per dare tutto la programmazione tra le 8 e le 12 settimane su una fase di volumizzazione, dove passeremo appunto da buffer progressivamente a cedimento, già nel corso delle prime settimane di serie, delle prime serie e delle prime settimane.